Benvenuti sul mio canale. Oggi a Verissimo Gemma Galgani, se si è confidata con Silvia Toffanini in una lunga intervista. La dama di uomini e donne si è raccontata, tra amore e dolori familiari. Dapprima ha parlato della sua nuova fiamma, Fabio è arrivato all'improvviso ed è avvenuto questo incontro inaspettato. Io però non ho mai smesso di credere nell'amore e nelle grandi emozioni. Rivederti per me è una grande gioia, anche perché tu riesci sempre a cogliere quelle emozioni nascoste nei cassetti e che a volte non si vogliono aprire. Poi dopo una clip che ripercorreva la sua storia, è scoppiata a piangere ricordando la mamma, mi ha lasciato un'eredità fortissima, il suo coraggio, quella che sono, la sua forza. Non c'è mai tempo abbastanza, una mamma ti manca sempre anche quando arrivi alla meta. Tradino c'era una grande intesa, molto forte. Mi manca sempre tanto, non importante che io abbia la mia età. Ho dovuto fare un percorso psicoanalitico quando ho affrontato il lutto. Lei ha affrontato la malattia con coraggio. Questo l'ho preso in eredità. Tua sorella ti ha fatto da mamma, possiamo dirlo, ha chiesto la conduttrice. Sì, Anna ha sostituito la mamma e ancora oggi è molto presente e severa. Guarda sempre le puntata, e poi c'è Silvana, la sorella più piccola. Anche lei ha una malattia molto seria, adesso sta bene, però abbiamo una storia veramente dolorosa, quando lo ha scoperto aveva solo sei mesi. Ci facciamo ancora compagnia però lei è stata quella che, quando io avevo sette anni, mamma è uscita con lei per fare una visita e poi non l'ho più vista perché è rimasta con lei in ospedale per tre anni le parole di Gemma visibilmente commossa. Adesso mia sorella viaggia tanto, ha continuato nella sua vita a sfidarla proprio perché in un primo momento le era stata quasi tolta. La sua vita è sempre stata una sfida, gli sport estremi, parla sei lingue, veramente lei ha voluto vivere.